Siamo tutti su tuo stesso giro, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su tua stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra la stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scurdamo troppo facilmente, che siamo nati senza far domanda, e tutte cose che ne siamo utili, quando morimo ne portamo niente. Avemo sempre la puzza sul tuo naso, facciamo il galacchino e noi ci spiega tu, e ne facciamo tanti ganni susi, ma siamo solo giù sempre i suntuosi. Noi, per come siamo fatti, non possiamo non essere felici, qualunque sia la nostra condizione qui sulla terra, però non dobbiamo perdere la memoria. Altrimenti ci allontaniamo troppo dal luogo dove c'è la festa, e questo sarebbe grave, perché se ci allontaniamo troppo, poi non riusciamo più a percepire i festosi rumori che ci arrivano portati dal vento del creatore. E' questo che ho cercato di dire. Ho cercato di dire che la festa non è una favola. Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo figlio, figlio di Dio, lo hai accompagnato fino alla fine, fino in fondo, fino alla morte, alla morte di Croce. Tu ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio, e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Perciò noi, in quest'altra domenica, che il Signore ci dà di vivere su questo piccolissimo pianeta dell'universo, ti chiediamo di mostrarci Gesù, di guidarci a Lui, di insegnarci a conoscerlo e ad amarlo, per diventare anche noi, come te, capaci di vero amore, ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Il mondo è assetato di verità, di bellezza, di bontà, di giustizia, di amore, che noi uomini non abbiamo, che dobbiamo ricevere. Di fatto l'antifola d'ingresso di questa domenica inizia proprio così. Accogliamo, o Dio, il tuo amore nel tuo Tempio, il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio siamo noi, non sono le chiese di mattoni. Siamo noi, uomini, fatti a sua immagine, sono le nostre famiglie, le nostre comunità. Ecco, una meraviglia, amici miei. Così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. La destra del Padre Eterno è Gesù, che è venuto a salvarci. Il braccio tuo potente, dice l'inno, ci conduca a un approdo di salvezza e di pace, perché siamo sempre sballottati dalle onde, come dice la Madonna nel messaggio del 25 giugno. Cari figli, io gioisco con voi e ringrazio Dio per avermi permesso di essere con voi, per guidarvi e amarvi. Qual è lo scopo di una mamma? Guidare amando i propri figli, la Santa Madre Chiesa. Però, figlioli, la pace è in pericolo e la famiglia è sotto attacco, perché la famiglia è il luogo dove ci si sviluppa e ci si può sviluppare bene, sia fisicamente, ma soprattutto umanamente, spiritualmente, perché noi siamo corpo e anima, ma la famiglia è sotto attacco. Perciò vi invito, figlioli, a ritornare alla preghiera. Quello che stiamo facendo ora è preghiera. Io cerco insieme a voi di riprendere coscienza. Ma io che sono? Non è solamente Leopardi che si fa la domanda, o ne che la possiamo accantonare. Davanti alla realtà. Ma io che sono? Tu che sei? Dobbiamo riprendere coscienza di quello che siamo. Noi siamo continuamente voluti e amati da Dio. Ecco, perciò vi invito, figlioli, a ritornare alla preghiera nella famiglia. Quando si prega, si riprende coscienza della propria grandezza, del proprio valore, della propria dignità, che purtroppo tante volte cadiamo in basso. Mettete la Sacra Scrittura in un luogo visibile e leggetela ogni giorno, perché la Sacra Scrittura ci racconta questa storia d'amore di Dio con noi, di Dio che ci ha creati e di Dio che ci ha redenti, che ci vuole salvare. Amici miei, ieri mattina l'ufficio delle letture di noi preti raccontava la storia di Davide, Davide, il grande re Davide, che esce sulla veranda, sulla loggia del suo castello, vede una donna che è nuda, che si faceva il bagno, gli sale il sangue al cervello, la manda a chiamare, sta con lei, lei rimane incinta, poi fa ammazzare il marito. Capite? Il peccato, come si può cadere in basso, amici miei? Ecco, allora vedete la preghiera di oggi della liturgia, è stupenda, sentite che cosa dice? O Padre, che nell'umiliazione del tuo figlio, come ci salva Dio se noi cadiamo in basso, scegliamo in basso? Scende più sotto di noi per risollevarci. Guardate quanto è bella sta preghiera. O Padre, che nell'umiliazione del tuo figlio, hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, alzati e cammina. Ecco, perché dobbiamo andare a Messa la domenica? O ci dobbiamo fermare, così come stiamo facendo adesso, davanti anche alla televisione, a pensare, a usare sta materia grigia che c'è, perché Gesù è venuto non per giudicarci, non per condannarci, e nemmeno per premiarci, è venuto per salvarci, perché cadiamo continuamente. Dio, Padre, nell'umiliazione del tuo figlio, hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, ma risollevi continuamente anche me. Dona perciò a noi, i tuoi fedeli, una gioia santa. La gioia di aver raggiunto una meta, il diploma, la laurea, il matrimonio, il posto tanto sospirato, sono gioie che passano. E ce l'ho io, o ce l'ha lui, o ce l'ha lei, ma non ce l'abbiamo tutti. La gioia santa, la possiamo avere tutti. Cosa, cosa, che gioia c'è in paradiso? C'è la gioia, finalmente, di essere salvati, perdonati, di capire perché abbiamo subito il male, perché abbiamo fatto il male, per ignoranza, perché sulla croce Gesù dice perdonali, perché non sanno quello che fanno. L'ignoranza è l'ottavo sacramento che ci salva, tutti, amici miei. E dobbiamo stare attenti a quelli che abbiamo ricevuto di più dal Signore, perché gratuitamente l'abbiamo ricevuto e lo dobbiamo dare, lo dobbiamo mettere in commercio. Allora dona ai tuoi fedeli questa gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godiamo della felicità eterna, la assaggiamo già da questa terra. Ecco, questa è la vita cristiana. Questo c'è in gioco nella vita dei cristiani. Ecco, assaggiare quella gioia alla quale siamo chiamati e destinati. Il nostro destino è il paradiso. In paradiso saremo tutti felici e contenti. Qui, sulla terra, no. Perché? Pecchissimo capitusti. Sentite il profeta Ezechiele, chiamato da Dio ad annunciare la misericordia sua a una genia di ribelli. Sentite che meraviglia. È veramente stupenda la liturgia. Ogni volta ci riprende. In quei giorni uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che parlava. E lo spirito certe volte ci riprende e ascoltiamo. Dio che parla continuamente. Dio parla continuamente con il cielo, il sole, la luna, le stelle, il mare, le montagne, i fiumi, tutta la creazione, gli uccelli che volano e cantano. Ecco, mi disse, figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele che sono una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Pensiamo a Gesù che dice alle donne che piangevano vedendolo salire al Calvario con la croce. Non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. amici miei, quando facciamo i capricci dopo ci facciamo male. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali io ti mando sono testardi e dal cuore indurito. È un mistero, amici miei. Il nostro cuore è un abisso. È un abisso il nostro cuore. È pieno di tante cose belle, ma di tante cose anche brutte. Basta ascoltare un telegiornale, aprire il giornale, leggere le notizie di cronaca e veramente capisci che il cuore dell'uomo è un abisso. È indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino. Dal momento che sono una genia di ribella sapranno che un profeta si trova in mezzo a loro. E quel profeta annunzia la venuta di Gesù. Gesù è venuto, è sceso in basso per risollevarci. Perciò è voluto nascere nella stalla. lo ha voluto morire inchiodato sulla croce per risollevarci ed è venuto per salvare tutti, no? I privilegiati. Allora, il Salmo responsoriale, i ritornelli dei salmi, quelli della liturgia, se ci mettiamo un punto interrogativo ci fanno fare un bel esame di coscienza. Ecco, il Salmo di oggi dice i nostri occhi sono rivolti al Signore. Mettiamoci un punto interrogativo. I nostri occhi, i miei occhi, gli occhi di noi preti, quelli che vengono a Messa, sono veramente rivolti al Signore? Questo è il Signore. Non è che il Signore è superman, e se rispondiamo con sincerità dobbiamo dire sì e no. Gli occhi di San Pietro erano rivolti a Gesù, ma ancora non aveva capito chi era Gesù, come non l'abbiamo capito noi. Prometti a Gesù, 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 se tutti ti abbandonano io non ti abbandonerò mai, morirò con te. Pietro, tu mi rinnegherai. Siamo tutti bravi a predicare bene, però poi come razzoliamo? I nostri occhi, nelle circostanze della vita, sono veramente rivolti al Signore. Le sue piaghe, come chiediamo alla Madonna, Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, sono impresse nel mio cuore, io lo desidero. Ecco, questa è la cosa bella, la verità ci libera, amici miei, siamo tutti peccatori, nessuno si scoraggia, perché il Signore non è venuto per ne fare pisare i peccati, e per risollevarci, sgravarci, prenderli lui i peccati, e sentire noi quella gioia santa. A te alzo i miei occhi, ecco, questo è il nostro Dio, a te che sei nei cieli. San Paolo diceva, io vedo il bene, lo capisco, lo vorrei fare, ma mi ritrovo a fare il male. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Ecco, siano rese grazie a Dio che ci ha mandato Gesù Cristo. Ecco, questa è la gioia santa, non che siamo bravi, ci pentiamo per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, io non pecco per colpa di nessuno, pecco per mia colpa. Ecco, allora, come gli occhi dei serbi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio. Ecco, se vedete San Francesco di Paola come chiede l'elemosina, la nostra mamma natuzza, questa è la cappella della casa dove io vivo, la cappella della casa della madre, c'è pure Dio Giussani e il Papa Giovanni Paolo II. Ecco, bisogna pregare finché abbia pietà di noi e ci faccia assaggiare il suo amore qui sulla terra. Pietà di noi, Signore, pietà di noi, noi siamo già troppo sazi del disprezzo dei superbi, siamo sazi dello scherno dei caudenti. Noi dobbiamo essere coscienti che tante volte non siamo ambasciatori suoi e di questo dobbiamo chiedere perdone, questo il peccato, ecco, con tutte le nostre debolezze che non dobbiamo nascondere, dobbiamo accettare e umiliarci, ecco la seconda lettura di oggi stupenda, San Paolo aveva un difetto, aveva una debolezza che chiedeva continuamente al Signore che gliela togliesse, sentite, affinché io non monto in superbia è stata data alla mia carne una spina, ognuno di noi c'è il carattere che ha, la cosa più bella è cercare di aiutarci ad essere ognuno di noi quello che siamo, non scimmiottiamo nessuno, io signo un ciancallo gatto, chi è il suo signo? Non cerco di essere quello che lo sono, ognuno di noi deve trovare se stesso, la sua autenticità, non potremo stare a fare l'attore l'attore si fanno al cinema nel teatro nella vita non possiamo recitare amici miei dobbiamo essere sinceri e ecco non montarci la testa perciò il Signore permette che continuiamo ad essere deboli a cadere e avere l'umiltà di lasciarci rialzare da lui e dai fratelli e dalle sorelle a causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che allontanasse da me questa debolezza ed egli mi ha detto ti basta la mia grazia la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza ecco perché poi San Paolo dice quando sono debole è allora che sono forte per Cristo perciò mi compiaccio nelle mie debolezze le debolezze ci devono fare stare nella verità nell'umiltà mi compiaccio nelle mie debolezze negli oltraggi nelle difficoltà nelle persecuzioni perché quando diciamo la verità a noi stessi e a chi ci sta intorno ecco non si ha una vita facile però si ha una vita vera e una vita che porta bene agli altri perché la verità ci libera non la menzogna infatti quando sono debole è allora che sono forte per Cristo quindi nessuna meraviglia delle debolezze il dolore per quando non le accogliamo e vediamo qualcuno intorno a noi che è triste quando non ci comportiamo bene dobbiamo riconoscerlo io ringrazio Dio non finirò mai di ringraziare Dio per aver avuto un papà che me lo ricordava perché mi ricordava che mi sporcavo non tanto gli abiti e il corpo mi sporcavo nell'anima ecco chi di noi non è puzzolente nel comportamento quante volte io davanti a qualcosa scappo per vigliaccheria per paura per debolezza amici miei tutti siamo debole ecco perché papà mi diceva ecco su fettoso sì papà hai ragione e poi aggiungevo un dindipare vergogna sì papà io ho vergogna stavo insieme di una maschera no mi umilio ecco questo è il cristiano nel mondo una persona autentica che dice pane pane vino al vino non dice Gesù Cristo il vostro parlare sia sì sì no no o di più tutti i ragionamenti vengono dal maligno e poi il Vangelo di oggi che ci ricorda una verità semplice che nessuno è profeta tra quelli che lo conoscono in quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono giunto il sabato e si mette ad insegnare nella sinagoga molti ascoltando rimanevano stupiti e dice ma da dove gli vengono queste cose miei zi caro e che sapienza è mai questa che gli è stata data i prodigi quelli che ha compiuto alle sue mani ma un neufiglie Giuseppe di Maria un fratello i parenti Giacomo Iose Giude Simone e le sue sorelle non stanno qui da noi perché pensiamo che ci conosciamo che io conosco te tu conosci ma non ci conosciamo ed era per loro motivo di scandalo ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria tra i suoi parenti è in casa sua e lì ecco non poteva compiere nessun prodigio ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì e Gesù si meravigliava della loro incredulità Gesù piangeva quando vedeva questa resistenza misteriosa che il Padre sapeva ma Lui come uomo ha capito piano piano la fine che doveva fare per salvarci ecco perché il Giovedì Santo dice Padre se è possibile passi da me questo calice ma non la mia ma la tua volontà ecco Gesù si meravigliava piangeva su Gerusalemme però adesso siamo già nel tempo della salvezza allora amici miei preghiamo più che possiamo e chiediamo prima di tutto il dono della fede della speranza e della capacità di volerci bene veramente e di perdonarci sempre perché noi abbiamo bisogno di questo e lo scopo della nostra vita è questo e imparare a volerci bene ad amarci senza contraccambi a fondo perduto questo è un miracolo che può fare solamente il Signore vi auguro una santa e bella domenica e vi do la rivederci alla prossima ciao ciao siamo tutti su tuo stesso giro siamo tutti su tuo stesso sole siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stesse respiriamo tutta stessa aria ne vivimo tutta stessa acqua camminiamo su pra stessa terra come se spiega tutta sta guerra noi ne scordiamo troppo facilmente casimo nati senza fa domanda e tutte cose che ne si mutini quando morimo ne portiamo niente avevo sembra puzza su tu naso facciamo galacchino e lucio spirito e ne facimo tanti ganni susi ma siamo su lucio c'è presunto osi aria 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 Grazie a tutti.